negli anni 80 quando si parlava della mafia la mente finiva subito a palermo ed era inimmaginabile capire che il fenomeno mafioso sarebbe andato oltre quel territorio che si era radicata così fortemente anche in territori sconosciuti come travani con spiagge e mare cristallino ed invece nella città il fenomeno è sempre stato forte e violento e l'Italia tutta comincerà ad accorgersene con diversi episodi molto gravi come il 25 gennaio del 1983 viene assassinato a Valderice il giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto il quale qualche settimana prima aveva incontrato l'altro giudice a Trento Carlo Palermo per indagini riguardanti i traffici di droga lo stesso Carlo Palermo trasferitosi intanto a Trapani il 2 aprile del 1983 si salva miracolosamente in una guada a Pizzolungo dove un'autobomba piazzata sul percorso per ucciderlo uccide invece Barbara e i suoi due gemellini Giuseppe e Salvatore la loro macchina fece involontariamente scudo all'auto blindata del giudice Palermo mentre loro vennero letteralmente diragnati dall'esplosione il 26 settembre del 1988 viene ucciso il giornalista Rostagno Reo di aver attaccato le cosche della zona attraverso una tv locale e stava anche conducendo delle inchieste che avrebbero potuto provocare danni a cosa nostra il 14 settembre del 1992 il vicequestore Rino Germanà a Mazzara del Vallo è vittima di un agguato dove i killer gli sparano addosso con i Kalashnikov riesce a scappare e viene solo ferito di striscia alla testa il vicequestore era stato uno dei più stretti collaboratori del giudice Borzellino il trapanese dunque è una zona molto radicata pericolosa e violenta ed è in questa realtà che ha cresciuto Matteo Messina Denaro nel 1962 a Castelvetrano è stato di fatto l'erete di Totori Ina e di Bernardo Provenzano l'uomo che aveva in mano le chiavi della mafia siciliana e forse non solo quelle diabolic così amava farsi chiamare l'ultimo custode di una serie di segreti che non riguarderebbero solo criminali sanguinari ma un'estesa ramificata rete di colletti bianchi e di massoni deviati che non ha mai smesso di agire in totale accordo con esponenti di Cosa Nostra è relato di Dante dal 2 giugno del 1993 giorno in cui la magistratura ha emesso il primo ordine di custodia cautelare nei suoi confronti una fuga probabilmente protetta da chi ha interesse che Usiccu il magro come lo chiamano in molti non venga mai arrestato per non correre il rischio che riveli segreti che dopo la morte di Totori Ina era l'unico custode prima di rendersi latitante Usiccu non ha mai fatto un giorno di carcere eppure la vita se l'era sempre goduta lusso benessere che ha sempre sfoggiato sul sito del ministro dell'interno alla voce elenco dei latitanti di massima pericolosità si leggeva che era accusato di associazione di tipo mafioso, omicidio, strage, devastazione, detenzione e porta di materiale esplodente e che dal 29 giugno del 1994 sono state diramate le ricerche in campo internazionale per arresto ai fini desiderazionali. Matteo è un predestinato, il papà infatti non è uno qualsiasi ma è Don Ciccio rappresentante di Cosa Nostra e soprattutto ottimo amico di Totò Ina. Il rapporto con il boss di Corleone è così forte che Totò Uurtu si rifugia proprio da Don Ciccio per sfuggire ai rivali e ai poliziotti. Ufficialmente Don Ciccio è un agricoltore ma in realtà è un boss con grande rispetto dentro e fuori il trapanese. Francesco Messina Denaro era uno degli uomini più influenti di Cosa Nostra Siciliana. A lungo nell'anonimato dove su di lui ci sono solo voci su chi è davvero quell'uomo che però cura gli interessi delle denude dei Dalì. Viene processato e subisce una condanna per mafia nel 92 a 10 anni di carcere nel 95 a 15. Ancora per mafia e traffico di droga. Accuse di delitti e trame d'affari eppure di lui si sa poco niente. La vera storia di Don Ciccio forse non verrà mai scritta per intero. Il pentito Nino Giuffré ex capo mandamento di Caccano spiegherà di aver fatto tesoro delle lezioni di Don Ciccio dicendo che grazie agli insegnamenti che ho avuto da Francesco Messina Denaro o avverto gli occhi. Ho capito tante cose che di solito non vengono dette verbalmente ma solo con un sorriso, uno sgarro, un gesto. Il datore di lavoro di Don Ciccio non è un latifondista qualsiasi ma è la ricca potente famiglia Dalì. Uno dei componenti sarà sottosegretario all'interno in uno dei governi berlusconi. Ad ogni modo Matteo cresce all'ombra di un papà che si è saldamente legato al caro vincente di Cosa Nostra, vale a dire quello di Totori Ina e Bernardo Provenzano. Aveva iniziato come semplice campiere, fra quelle terre aveva conosciuto la mafia dei Corleonesi che all'epoca, negli anni settanta, si cimentava con il più irriverente degli sgarbi al potere costituito, il sequestro di Luigi Corleo, il suocero di Nino Salvo. Quel sequestro fu un altro spartiacque fra la vecchia e la nuova mafia. Messina Denaro scelse naturalmente di stare dalla parte dei nuovi padroni, Totori Ina e Bernardo Provenzano. Intanto Francesco Messina Denaro continuò ad essere un perfetto sconosciuto per la giustizia e diventò fattore di una delle famiglie più influenti del travanese, quella dei Dalì, attività poi ereditata dal figlio Matteo. Queste erano le parole di Gioffre. Ignorato per anni dall'antimafia, Don Ciccio comincia ad avere dei problemi con la legge del 1991, quando è costretto a darsela la ditanza. Per sette anni nessuno sa che fine abbia fatto, dove si nasconda chi potrebbe proteggere la ditanza. Matteo diventa orfano il 30 novembre del 1998, come certificherà il medico legale, Don Ciccio, che in quel periodo è latitante, passa a migliore vita per un collasso cardiocircolatorio. Aveva 70 anni e a farlo fuori è stata una morte naturale e non un paio di fucilate come il Tagapoglan. La sua morte è comunque assai singolare. La polizia lo trova sotto un olivo nelle campagne di Castelvetrano, è vestito elegante, già pronto per il funerale. Ad ogni modo, la morte gli consente di non finire sul banco degli imputati per l'omicidio del giornalista Rostagno, il giornalista assassinato a Erice, provincia di Trapani, nel settembre del 1988. Secondo il pentito Vincenzo Sinagori, infatti, Don Ciccio aveva dato l'ordine di uccidere Rostagno. Papà, a parte, Matteo non sembra comunque destinato a fare una vita al di fuori di cosa nostra. Da ragazzino è decisamente vivace. Del resto, essere figlio di Don Ciccio gli permette quel figlio da prepotente tipico di chissà di avere le spalle coperte. Qualsiasi cosa faccia, dica. Si iscrive all'istituto tecnico commerciale Ferrigno, ma la strada del ragioniere si interrompe al terzo anno. Prova a riprendere gli studi qualche tempo dopo, ma nel dicembre del 1982 la sua carriera scolastica finisce per sempre. In lui ha la consapevolezza che non sarà un titolo di studio a dargli da mangiare. È ricco, spavaldo, servito e corteggiato, usì qua in pratica il mondo ai suoi piedi. Ma c'è qualcosa che non va. È l'occhio sinistro, che per colpa della mio via è diventato un po' strabico e per nascondere l'imperfezione e indossa sempre e comunque dei reban nascuri. Ma con le donne ci sapeva fare, ed è proprio grazie a una delle donne a cui è stato legato che gli inquirenti sono riusciti a raccogliere notizie sul suo conto. Messina Denaro ha utilizzato la ferocia pure nelle sue vicende sentimentali, come negli affari. Anche nel versante privato l'omicidio gli ha servito per liberarsi di una scomoda concorrenza, come Nicola González, un signore che lavorava al Paradise Beach, un elegante albergo serinunte. Nei mesi estivi, nella segreteria dell'hotel, ci lavorava Andrea, una bella ragazza ostiaca che ha intrecciato una relazione col giovane mafioso di Cassalvedrano. Usicco frequenta perciò spesso il Paradise Beach e spesso con alcuni amici figli di mafiosi come lui, con impadente presenza. Il signor González non gradisce assolutamente quel gruppo, così fa sapere che quando diventerà direttore dell'albergo farà in modo che quella gentaglia non venga più a disturbare. E quando Usicco lo viene a sapere ha una sola reazione, l'uomo non va minacciato, va eliminato. La condanna a morte si materializza il 21 febbraio del 1991. A raccontare ai giudici comandarono i fatti e nel 1996 Francesco Geraci, un ex amico di Matteo, diventato collaboratore di giustizia. Francesco Geraci, prima di farsi risucchiare nel vortice da Diambolic, è un rolleiere di Cassalvedrano, amico di infanzia di Matteo. Un commerciante che un giorno si pentirà di avergli chiesto un favore, perché il prezzo da pagare sarà altissimo. Geraci e Matteo si erano persi di vista, ma poi, all'inizio degli anni 90, si incontrano in un circolo culturale, dopo i saluti, il commerciante sa che ha di fronte e gli racconta di essere stanco, perché lo hanno rapinato più volte e hanno derubato pure sua sorella e il suo dipendente è stato persino sequestrato. Qualche giorno dopo, Diambolic va in giuglieria e dice a Geraci che da quel momento in poi non avrà più problemi. Geraci è felice, si mette a completa disposizione per qualunque cosa a Matteo. Non sa che da quel preciso momento avrà un debito che non estinguerà mai. Quel qualunque cosa Diambolic lo prenda alla lettera, perché Geraci dovrà fare davvero qualunque cosa. Dovrà mettersi a completa disposizione di Matteo, fargli da autista, accettando anche di essere coinvolto nella commissione di sei omicidi, ricevendo perfino la richiesta di fargli da prestanome e intestarsi la proprietà di alcuni terreni, dopo complessa operazioni finanziarie di riciclaggio. Matteo offre a Geraci anche di conoscere Salvatore Rina, che lo è in carica di custodire un piccolo tesoro. Una prima volta l'incontro con il capo mafia cordonese avviene nell'ufficio proprio del gioiellere. Una seconda volta Rina si presenta a casa di Geraci con moglie e figli, consegnandogli una valigia con oggetti preziosi che nasconde in un cavo nascosto nel suo ufficio e successivamente lo sposta in un altro nascondiglio sotto il pavimento di sua casa. Geraci porta spasso anche in motoscavo i figli di Rina, nella zona balnearne di Triscina, dove l'intera famiglia trascorre una serena villeggiatura ospitata dagli amici di Diabolik. Il peso da sopportare diventa insostenibile e nel 1995 il gioielliere decide di salvarsi e collabora con la giustizia, raccontando agli inquirenti un importante pezzo della biografia segreta di Diabolik. E confessa che l'amico d'infanzia era ormai molto più riverido e potente del pavaciccio. Grazie a tutti.